Buongiorno, buon sabato, vediamo subito i titoli di questa nuova edizione del telegiornale. Da mezzanotte nuove zone rosse e arancioni, 5 le regioni che cambiano colore, il governo già apre il dossier su Natale e feste solo con i familiari più stretti. Oltre 40 mila nuovi casi ieri, 550, le vittime, scende l'indice di contagio a 1,4 ma la curva non cala, il numero di contagiati è ancora significativo secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Manovra anti-covid da 38 miliardi, aiuti alle famiglie, fondi per medici e infermieri, stop ai licenziamenti fino al 31 marzo e 5 miliardi per la cassa integrazione. Dunque l'Italia rivede la sua mappa a colori e con nuove regioni in zona rossa e altre in zona arancione, ma il governo sta già pensando se e quali misure applicare durante le feste natalizie. Sentiamo Federico Plotti. Mancano 40 giorni al Natale, la speranza di tutti, anche dell'esecutivo, è quella di poterlo trascorrere in famiglia senza lockdown e con meno restrizioni. L'idea che trapela dai piani alti del governo è che con tutta la prudenza del caso qualche allentamento ci potrà essere soprattutto per la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre, con la raccomandazione però di essere in pochi a tavola e solo tra stretti familiari rispettando ovviamente tutte le regole di sicurezza. Ma alcuni virologi sconsigliano ancora un Natale in famiglia, soprattutto per il pericolo di contagio tra nipoti e nonni. Tutto dipenderà comunque dall'indice di contagio, adesso all'1,4%, che per stare tranquilli dovrà scendere sotto l'1. Se la curva del virus dovesse appiattirsi si potrebbe pensare anche alla revoca del coprifuoco, adesso attivo dalle 22 alle 5 del mattino in tutta Italia. Non sarà un liberi tutti, dice il Premier Conte, che per le festività pensa anche di alleggerire le restrizioni imposte a commercianti e ristoratori per favorire i consumi e dare una boccata d'ossigeno ai due comparti che per ora in termini economici stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi sanitaria. E dal governo arriva oggi la voce del Ministro della Difesa Guerini, secondo cui anche senza regole gli italiani sono perfettamente in grado di trascorrere un Natale in sicurezza. Nel frattempo bisogna stringere i denti e rispettare norme e regole che da domenica saranno più rigide per altre regioni ritenute più a rischio dopo il monitoraggio effettuato nell'ultima settimana dall'Istituto Superiore di Sanità. In zona rossa, Lombardia, Piemonte, provincia di Bolzano, Calabria e Valle d'Aosta, si aggiungono anche Toscana e Campania. Quelle arancioni diventano invece nove con l'ingresso di Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Restano in zona gialla solo cinque regioni, Lazio, Trentino, Veneto, Sardegna e Molise. L'andamento dell'epidemia, oltre 40.000 nuovi casi, ieri 550 le vittime, rimane al 16% il rapporto tra tamponi e positivi, ma scende l'indice di contagio. E poco fa il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha detto che il calo della curva ancora non c'è perché resta significativo il numero dei casi. Sentiamo il servizio di Letizia Davoli. Dopo qualche giorno al ribasso, torna a salire il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Italia, che nel bollettino di ieri ha registrato 40.900 contagi in più rispetto al giorno precedente, quando erano quasi 38.000, ottenuti da un nuovo record di tamponi, 254.900, 20.000 in più rispetto a giovedì. Rimane comunque stabile al 16% il tasso di positività, nonostante i dati in aumento. Anche se questa settimana l'RT sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4, si trova comunque sia al di sopra di 1 e questo rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati signora presi. In lieve calo da 636 a 550, le vittime restano sopra quota 10.000 guariti e dimessi dagli ospedali, ma ieri si è assistito ad un picco di nuovi ricoveri in terapia ordinaria, 1.041 contro i 429 di giovedì e a un calo da 89 a 60 degli ingressi in terapia intensiva per un totale di 3.230 posti occupati. Purtroppo però il virus circola in tutto il paese e si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva. Questo chiaramente giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle regioni che sono a rischio più elevato e naturalmente induce la popolazione a comportamenti prudenti. Oltre al più rigido rispetto delle regole, unica misura che permette di abbassare la curva, è necessario proseguire con il tracciamento dei focolai. Stanno aprendo in tutta Italia nuovi drive-thru realizzati in collaborazione con la difesa nell'ambito della operazione IGEA. Gli ultimi due a Genova, gestiti dalla Marina Militare, potranno effettuare fino a 700 tamponi al giorno. E tra gli effetti collaterali del virus, ne abbiamo parlato tante volte, c'è anche l'aumento del numero dei cosiddetti nuovi poveri. Allora andiamo a Milano, al centro d'ascolto della Caritas. Eccolo qui, lo vediamo. C'è Maurizio Dischino. A te, Maurizio. Buongiorno da Piazza San Luigi a Milano, nell'area meglio conosciuta come Vigentino. La Lombardia continua ad essere la regione più segnata in Italia, più segnata dal coronavirus. Solo ieri i nuovi casi sono stati 10.634. Quindi per il secondo giorno consecutivo la Lombardia ha registrato un quarto del dato nazionale. Dati altalenanti di casi quotidiani durante l'ultima settimana in Lombardia si è passati da un minimo di 4.700, casi quotidiani ad un picco di 11.000. Salgono nelle province di Milano, Varese e Monza-Brianza. Comunque gli effetti di questa nuova chiusura in Lombardia si vedranno dalla prossima settimana. E giorno dopo giorno, in questa seconda ondata della pandemia, si stanno vedendo anche gli effetti sull'economia delle famiglie. Infatti il Covid sta impoverendo la gente e le famiglie. La Caritas Ambrosiana, in un recente rapporto, ha fatto sapere che sono stati quasi 9.000 gli impoveriti da Covid nell'Arcidiocesi di Milano che si sono rivolti a centri di ascolto Caritas durante la prima fase della pandemia. Dati che fanno riflettere anche oggi alla vigilia della quarta giornata mondiale dei poveri. E vicino a me c'è Roberto Cremonesi, responsabile del centro di ascolto della parrocchia di San Luigi Gonzaga, che serve anche alla parrocchia di Ogni Santi qui a Milano. Allora, Roberto, chi sono i nuovi poveri e che cosa vi chiedono? I nuovi poveri sono persone che purtroppo hanno perso il lavoro in questo periodo. Sono persone che hanno famiglia a carico e chiedono a noi naturalmente anche semplicemente il pacco viveri per sopravvivere. O eventualmente anche il pagamento di utenze, di bollette. Noi facciamo il possibile, però la situazione è pesante anche nel nostro quartiere. E da voi si rivolgono famiglie che non vi aspettavate che si rivolgessero a voi? No, questa è la cosa che ci ha più impressionato. Famiglie anche, famiglie di italiani che si sono rivolti a noi che in questi anni non avevamo mai conosciuto. Grazie, Roberto. Vi segnalo che nella parrocchia di San Luigi Gonzaga, che vedete alle mie spalle, domani il centro di ascolto raccoglierà genere alimentari per famiglie in difficoltà economica, impoverite dal Covid. Chiunque abiti in questa zona del Vigentino può venire a dare il suo aiuto. E da Milano restitisco la linea allo studio. Noi andiamo avanti e parliamo di maltempo. Andiamo all'estero. Il tifone Vamco ha raggiunto le Filippine. La zona più colpita è quella dell'isola di Luzon, la più grande, con piogge e raffiche di vento fino a 200 km all'ora. Per il momento il bilancio è di decine di morti e di altrettanti dispersi. Un milione gli sfollati. Almeno 40.000 case sono state già sommerse da acqua e fango. Lo vediamo, si tratta della ventunesima perturbazione ciclonica che colpisce le Filippine dall'inizio dell'anno. La terza, in poche settimane. Ora il ciclone è diretto verso il Vietnam. La politica anticipazioni della bozza della legge di bilancio che il governo si prepara a inviare alle Camere. Una manovra da 38 miliardi con fondi per famiglie e operatori sanitari e per la cassa integrazione e poi anche aiuti. all'imprenditoria femminile. Sentiamo Leonardo Possati. Il governo lavora alla prossima legge di bilancio. Una manovra da 38 miliardi. Tanti soldi che però potrebbero non bastare. Tante che si ragiona già su un possibile scostamento di budget per il 2021 da approvare probabilmente a dicembre. Novità in arrivo per le famiglie con l'assegno unico per i figli che assorbe tutte le misure a sostegno della natalità e che partirà da luglio. In un primo momento verrà garantito comunque l'assegno bebè dato ai genitori per il primo anno di vita del neonato. Questo per non penalizzare i nati nei primi sei mesi dell'anno prossimo. Aumentano poi i fondi destinati al reddito di cittadinanza più 196 milioni di euro dal 2021, dal 2029 più 477 milioni. Il mondo del lavoro. Arrivano incentivi per le assunzioni degli under 35, sconti sui contributi per le imprese al sud e 5,3 miliardi per finanziare la Cassa Integrazione. Altre 12 settimane tra il primo gennaio e il 31 marzo 2021. Fino a questa data poi sono bloccati i licenziamenti. Al contempo viene potenziato il fondo Covid destinato alle attività produttive colpite dall'emergenza. 4 miliardi che però andranno almeno triplicati. Piovono poi i bonus dalla riqualificazione energetica all'acquisto di mobili ed elettrodomestici senza dimenticare biciclette e motorine elettrici. La pandemia ha messo in luce i punti nevralgici del nostro vivere quotidiano, tra questi i trasporti. Così il governo ha deciso di stanziare 350 milioni per potenziare i servizi di trasporto scolastico di comuni e regioni. E sempre guardando alla pandemia, nel testo c'è un capitolo dedicato alla sanità, le cui drammatiche condizioni sono sotto gli occhi di tutti. Il governo ha stanziato fondi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri della sanità pubblica. Arrivano poi i soldi per i tamponi, 70 milioni, anche nel 2021 per l'esecuzione dei tamponi rapidi e decongestionare così il sistema diagnostico dei casi positivi al Covid. A Roma, dove 21 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver indebitamente percepito la pensione di guerra, un danno per le casse dello Stato stimato intorno ai 700 mila euro. Si tratta di persone residenti tra Roma, Ostia e Genzano. Dovranno rispondere a seconda dei casi di truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione di provvidenze attraverso mendaci, autodichiarazioni. In periodo di pandemia, secondo gli esperti, è aumentato il bisogno di parlare con qualcuno. La solitudine, l'isolamento e la paura di ammalarsi influiscono sulla tenuta psicologica di ognuno di noi. Cesare Cavoni. Gli effetti del Covid non solo sul nostro corpo, ma anche sulla nostra mente. Negli ultimi mesi diversi studi scientifici hanno mostrato l'incidenza della pandemia sulla psiche delle persone. Secondo il telefono amico sono raddoppiate le richieste di aiuto. Gli stati d'ansia in primo piano, la paura di ammalarsi. Quasi 500 chiamate al giorno che registrano lo scoramento e l'isolamento sociale di fronte alla bestia della malattia in agguato. Abbiamo più che raddoppiato le richieste d'aiuto ai nostri servizi. Abbiamo dovuto potenziare il servizio chat. Mediamente noi gestiamo, riceviamo e gestiamo poco meno di 500 richieste di aiuto nel corso di ogni giornata. Questo non vuol dire che sono 500 persone che parlano di suicidio, ma sono 500 persone che vivono un malessere, un disagio. Di recente un'altra ricerca condotta dall'Istituto Elma Research in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Polonia su mille persone ha messo in risalto tra i sintomi più dichiarati insonnia, mancanza di energia o debolezza, tristezza o voglia di peangere, paure, mancanza di interesse nel fare le cose, panico e attacchi di ansia. E un altro studio ha messo invece in evidenza un nuovo tipo di disagio a livello psicologico. L'ansia da limbo è un'ansia specifica, da sospensione del tempo, con risvolti che vanno dalla difficoltà di concentrazione allo spaesamento. Nel corso di questi mesi abbiamo visto come è cambiata la reazione delle persone all'esperienza che stavamo vivendo. Le prime settimane sono state di grossa confusione, di smarrimento. Già a partire da aprile però il racconto delle persone che ci chiamavano cominciava a diversificarsi profondamente. Sono cresciuti i racconti di paura, sgomento, preoccupazione. E a proposito di paura, sgomento e preoccupazione c'è anche rabbia e amarezza. Sono le diverse reazioni alla notizia dell'inasprimento delle regole dei cittadini perché lo ricordiamo che da mezzanotte Campania e Toscana diventano zona rossa. Il servizio di Luigi Ferraiolo. Nessuno ci credeva più in Campania, la zona rossa, dopo il balletto di queste settimane, almeno da fine ottobre, in cui a tutti era chiaro che la regione doveva essere valutata come più a rischio mentre il governo tentennava. Invece in Toscana non ci hanno mai creduto, tanto che ieri molti si domandavano su Twitter se non fosse una bufala. Questa volta devo dirvi che corrispondo invece a un sentimento che è di sorpresa oggi e di amarezza. Perché? Perché onestamente vedevo che negli ultimi giorni i dati tendevano a un cauto graduale ma a un oggettivo miglioramento. Campania e Toscana si preparano così all'ultimo giorno di libertà prima della zona rossa. Ormai oltre metà del paese è sottoposto alle misure più restrittive tra gli scenari 3 e 4. Eppure anche in Campania non molti accettano con serenità le decisioni del governo. La scelta è tardiva, scrivono a esempio i commercianti di Confesercenti. Da ottobre chiediamo al governo di poter salvare il Natale. Ma nemmeno un mese fa i commercianti erano in piazza a protestare contro le chiusure anticipate decise dal governatore De Luca. Come se essere previdenti fosse un male e si dovessero aspettare i morti. Tanto che ora si parla di tre settimane di scenario 4, ovvero più grave per la regione. Di certo nessuno dimenticherà lo scorso fine settimana dello scandalo a Napoli sul lungomare dove si sono viste decine di migliaia di persone tranquillamente a passeggio le une addosso alle altre. Una scelta molto contestata dagli altri sindaci campani. A Bergamo il contagio esplose proprio per due weekend di shopping e trasporti gratuiti al netto del disastro dell'ospedale di Alzano Lombardo e della partita Atalanta-Valencia. Il telegiornale finisce qui, torna però alle 18.30. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.